Buongiorno a tutti il mondo, diceva il grande dottore del mare, Ciro Pascal. Due rate, nè nulla. Ho visto qualche mucinetto, qualche salpota, saragotti, ma non ho visto nulla. Tiro il sasso, vado giù, sono già il ventiduesimo tuffo, non è che l'ho presa l'adio, sì. Non ho ancora tirato un tiro, non ho visto un pesce da spararli, nulla. Io sto attaccata in riva, c'è questa corrente, va bene. La riva è storata lontana da porzione, un tiro magnifico, ma veramente bellissimo, la piglia sotto perle. Che lei ci fa girarsi, si gira mentre io tiro il grilletto. L'ho presa, quando mi avvicino, guardate se fa, manca poi si sfila dall'asta. Per fortuna la letta l'ha tenuta. Ho preso un pesciotto, riparto sempre nella stessa zona, tutto lì, eh. Tiro il sasso, vado giù, sono in un metro d'acqua, chiamo, c'è questo pianone. Io sono dentro un abballamento profondo, invece farà due metri che sono praticamente ritto. Guardi, dal nulla appaiono queste due rate. Un tiro bellissimo, una centra in pieno, un bel pesce. Sono contento, veramente contento perché ho già capito che sarà stata durissima. Ho fatto 85 tuffi in circa tre ore. Questa però si cazzicchia parecchio, si lega tuta, mi ci vuole 10 minuti per cos'è. E oggi ho provato questa bisiera estrema, un bel prodotto. Io non è che con l'acqua sì, questi prodotti io non è che l'amo tantissimo. Io non è che con l'acqua sì, questi prodotti io non è che con l'acqua sì.